In Italia non siamo assolutamente al sicuro dall'introduzione degli OGM su tutto il territorio nazionale. Sappiamo tutti quanti che l'Italia è una nazione ricca di tipicità agroalimentari, uniche nel mondo, invidiate in tutto il mondo. L'80% degli italiani e dei cittadini europei si sono espressi chiaramente contro la coltivazione degli OGM e contro la contaminazione degli OGM all'interno degli alimenti, delle derrate alimentari. Purtroppo ci troviamo in epoca di semina, stiamo rischiando di vedere coltivare gli OGM su tutto il territorio nazionale, per questo noi dobbiamo mobilitarci per bloccare questa potenziale contaminazione, anche perché tra qualche giorno ci sarà la sentenza del Tar che dichiarerà la validità o meno del decreto interministeriale che blocca gli OGM. Dobbiamo bloccare gli OGM perché l'introduzione di questi causerebbe dei gravi danni economici a tutta l'agricoltura, a tutto il settore primario dell'Italia. La buona notizia è che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo preparato una mozione e una petizione che potrete usare per portarla al vostro comune. Che cosa vogliamo ottenere con questo? Vogliamo ottenere tre cose. La prima è il fatto che si vieti la coltivazione delle OGM sul territorio comunale. La seconda è che venga indicata l'eventuale presenza di OGM nei prodotti che vengono serviti nelle messe scolastiche e nei servizi di ristorazione del comune. E il terzo obiettivo che ci siamo posti è quello di dare la precedenza a tutte le forniture alimentari che non contengono OGM per quel che riguarda l'accesso ai bandi per i servizi di ristorazione collettiva del comune. Abbiamo preparato questo testo e lo rendiamo disponibile sul sito www.italiaogmfree.org, lo potete vedere in sovraimpressione, ed è il sito dove potete raccogliere tutto il materiale necessario per portare avanti questa campagna assieme a noi. Quindi noi aspettiamo anche la vostra azione, la vostra proposta e aspettiamo anche che ci diate un riscontro tramite una foto o un video in cui si vede la consegna di questa mozione in modo che questa nostra azione divenga virale e si diffonda sia sui social che appunto sui media. Vi ringraziamo per questo, mi raccomando andate sul sito www.italiaogmfree.org E partecipiamo! E partecipiamo!